Eccoci qua che ci buttiamo in mezzo a questi graniti monumentali e qua siamo nella zona del acquedotto di Lubulioni che è l'impianto idraulico che trasferisce l'acqua ad Arzachena, vedi? Da dove arriva? Da lì? Eh no, arriva qua, da queste montagne qualsù Lubulioni, fatto credo negli anni 20 se non ricordo male e qua passiamo sotto il ponte e qua adesso, da questo momento in poi iniziano i saliscendi Vero G? Cazzo, questo me lo ricordo bene Ricordati che siamo in diretta quindi il turpilupio Dacci il ragguagli sulla pendenza ma questo era un tratto brevissimo e qua siamo al prato i nostri amici cani qui c'è la produzione di prato il prato da giardino il prato da giardino per le ville della costa Smedalda ed eccoci di nuovo in salita Grazie! Grazie!